Ben trovati a tutti quanti nel post gara di Suzuka del 2024. Abbiamo visto una gara ben diversa da quello che ci saremo aspettati nelle scorse settimane. Era previsto infatti inizialmente pioggia, vento e un gran freddo. Invece non abbiamo visto niente di tutto questo. È stata una bella giornata, soleggiata e anche molto calda, con 24 gradi dell'aria e 40 gradi di temperatura asfalto, quindi una gara più che regolare. La pioggia che magari qualcuno si sarebbe augurato per vedere un qualcosa di diverso nelle prime posizioni non è arrivata. Anche se la gara è stata tutt'altro che noiosa, è stato molto interessante, abbiamo comunque visto delle belle lotte. È stata più che altro una gara tanto di strategia e tanto di mentalità, dove abbiamo visto diverse strategie dove in alcuni casi sono state ottime e in altri casi si sono rivelate un po' meno performanti. Giro veloce di questa gara, ovviamente, di Max Verstappen, anche se per tanto tempo è rimasto nelle mani di Carlos Sainz, avendo comunque verso la fine della gara una gomma più fresca, mentre il più rata di giornata è stato Charles Leclerc. E ora, piano piano, andremo a capire anche il perché e soprattutto perché, secondo me, sia stato corretto dargli questo titolo. Gara che, di fatto, è iniziata con mezz'ora di ritardo perché Ricciardo e Albon si sono toccati al primo giro in curva 3 e sono finiti entrambi nel muro. Per fortuna, nessuno dei due si è fatto male. È stato tanto discusso di chi potesse essere stata la colpa di questo contatto, ma io più che colpa direi che è stato un incidente di gara e quindi sarebbe più corretto andare a ricercare chi è stato più rilevante in questo contatto. E dal mio punto di vista, secondo me, Albon ha un po' più di colpa rispetto a Ricciardo, anche perché si trovava dietro, vedeva benissimo le mosse del suo avversario. Non era facile passare lì all'esterno, soprattutto era parecchio indietro. Ricciardo comunque ha fatto la sua traiettoria, ha fatto la traiettoria normale che avrebbe fatto qualsiasi altro pilota per percorrere la curva, solo che non ha prestato al massimo l'attenzione sullo specchietto destro e il contatto con Albon è stato inevitabile. Albon che comunque si trovava in un punto molto difficile per essere visto negli specchietti di una monoposto del genere e quindi purtroppo è andata come è andata. L'importante è che non si sia fatto male nessuno. Quindi gara ritardata praticamente di mezz'ora con bandiera rossa e andiamo a vedere adesso quella che è stata la classifica. Re indiscusso della gara ma anche re dei passati campionati è stato assolutamente Max Verstappen che arriva in prima posizione staccando di 12 secondi e mezzo Perez e di 20 secondi Ferrari. Ottimo perché comunque sei mesi fa Ferrari su questa stessa pista aveva preso 40 secondi, quindi possiamo dire che sia un ottimo risultato per Ferrari e possono essere contenti degli sviluppi che hanno portato. Un Sainz seguito da Leclerc che come abbiamo detto ha vinto il titolo di pilota della giornata perché ha corso una gara magistrale. È riuscito a ottenere sempre un passo ottimo, eccellente con un degrado gomma veramente basso. Lui è stato il primo pilota della griglia che ha avuto una strategia un pochino più differente rispetto agli altri. Si è fermato una volta sola, ha fatto durare la gomma gialla per molti più giri rispetto a tutti gli altri, riuscendo comunque da ottavo a arrivare quarto. Una grandissima prestazione. Infatti se andiamo a vedere il grafico del passo gara rispetto a Sainz, a inizio della gara ha sofferto un po' di più perché si è trovato incollato a una McLaren che non riusciva a passare, che gli ha fatto perdere diverso tempo. Cosa però molto interessante che una volta che McLaren si è fermata con il suo pit stop, Leclerc è riuscito a abbassare di tanto i suoi tempi sul giro e farli rimanere costante fino alla sua sosta che è stata al 26esimo giro. Unica sosta ed è passato da gomma gialla a gomma bianca che gli hanno permesso di arrivare alla fine del Gran Premio. Dietro Leclerc troviamo comunque un ottimo Lando Norris a 29 secondi dalla testa. Sicuramente per McLaren c'è un po' di amaro perché sei mesi fa in questa gara erano riusciti a prendersi un doppio podio. Strategia di Norris totalmente diversa da quella di Leclerc perché Lando si è fermato all'undicesimo giro, molto molto presto rispetto a tanti e molto presto rispetto a Charles. Inizialmente vediamo come i tempi sul giro sono un po' altalenanti, però cosa molto positiva quando le strategie di Leclerc e Norris si sono allineate, quindi quando si sono trovati entrambi con la gomma bianca cambiata tra l'altro allo stesso giro, i tempi dei due piloti sono rimasti praticamente identici. Cosa che sottolinea ancora di più la forza di McLaren in questa pista. Dopo Norris troviamo a 15 secondi di distanza, quindi un abisso, un Fernando Alonso su Aston Martin. Aston Martin che in questa pista non è riuscita a performare al meglio, soprattutto se la confrontiamo su quella che è una diretta concorrente, ovvero McLaren. Abbiamo ripetuto all'infinito che McLaren era molto più forte in questa pista e anche da questo l'abbiamo visto. Alonso che non ha assolutamente corso una cattiva gara, i suoi tempi sono comunque rimasti sempre in linea e sempre ottimi, riuscendo anche lui a gestire un degrado gomma molto elevato. E qui arriviamo nel pacchetto comandato da Russell, fatto appunto da George, Piastri ed Hamilton. Questi tre non si sono trovati al loro agio con la macchina, nonostante Piastri avesse dalla sua una McLaren molto molto performante. Hamilton sin dall'inizio della gara si è lamentato della loro enorme lentezza, della loro enorme difficoltà da far performare una gomma che ha degradato veramente tantissimo. Hamilton si è trovato costretto anche a far passare Russell a inizio della gara, proprio perché l'inglesino aveva molto più passo rispetto al sette volte campione del mondo. Se non ci fosse stato questo cambio di posizioni probabilmente l'arrivo sarebbe stato allo stesso modo così. Ovviamente è impossibile non essere dispiaciuti per Mercedes che ci teneva veramente tanto a questo progetto ma che non è riuscita a trovare la quadra. Per quanto riguarda Oscar Piastri abbiamo potuto notare come abbia performato molto molto peggio rispetto a Norris, il che è un gran dispiacere visto che comunque è sempre riuscito bene o male stare all'altezza del compagno di squadra. I suoi tempi e il suo passo gara sono rimasti molto in linea con quello che è Mercedes, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere sinceramente, anzi mi sarei aspettato una prestazione molto più vicina a quella di Norris. Cosa che non l'ha fatto performare e quindi è rimasto così indietro anche in classifica. Unico guizzo che ha avuto Piastri è stato il sorpasso in curva 1 al diciassettesimo giro su Hamilton, veramente un sorpasso al limite all'esterno, veramente bello bello bello, un'ottima manovra. Arriviamo fuori dalla top 10 con un padrone di casa Yuki Tsunoda che ha dato veramente tutto, si è visto nella sua guida, è stato aggressivo, ha spinto sempre e non è mai arrivato all'errore. Anche un plauso alla squadra che nel marasma di P-Stop è riuscita comunque a metterlo davanti. Un'altra differenza enorme all'interno di uno stesso team è quella che c'è stata tra Alonso e Stroll. Stroll non è mai riuscito a performare, è sempre rimasto molto indietro e ha lamentato veramente tanto anche nei team radio il fatto che la sua macchina non avesse un motore abbastanza performante. Ci era rivenuto in mente subito il fantastico GP2 engine, sempre qui al Suzuka di Alonso. Anche Hülkenberg e Magnussen hanno ottenuto due passi gara totalmente differenti. E da questi grafici possiamo anche vedere che Sargent ha corso una gara molto molto buona. Purtroppo l'errore che ha fatto circa metà gara entrando nel chiaione li ha fatto perdere veramente tantissimo tempo, così da piazzarsi in ultima posizione anche dietro le Alpine. Vediamo dal grafico come il passo gara sia stato abbastanza buono, nonostante la macchina con cui si trova a correre. Anche Sauber non si smentisce, i suoi passi rimangono comunque pessimi e il team ci mette del suo a raggiungere queste prestazioni così scarse, vedendo anche i problemi che hanno avuto durante il pistò. Joe addirittura si è ritirato. Alpine purtroppo non mi sento nemmeno di doverla considerare, visto che hanno fatto da chicane mobile per tutta quanta la gara, come se fossero stati veramente di un'altra categoria. Andando ad aggiornare la classifica piloti vediamo come Perez sia riuscito a passare davanti a Leclerc e Sainz a portarsi a 5 punti precisamente in seconda posizione davanti a Charles Leclerc. Primo indiscusso Verstappen con 77, seguito da Perez come abbiamo detto 65, Charles 56, Sainz 55 come il suo numero di gara. Norris e Piastri molto vicini e in questo momento vediamo un Russell completamente dominante su Hamilton che non trova veramente feeling con la macchina. Quindi settimo Russell, ottavo Alonso, nono Hamilton. Da fare un ottimo applauso anche qua a Asunoda che è riuscito a prendere un punto andando a raccoglierne in totale 7. Peccato che a questo giro non ci siano stati punti, per le As sarebbe stato bello riuscire a vederle comunque conquistare dei punti e provare un sorpasso sulla Racing Bulls. Entrando nel piano del discorso della classifica costruttori, comunque vediamo una Red Bull che adesso è in prima posizione a 21 punti di vantaggio su Ferrari. Quindi 141 per Red Bull, 120 Ferrari e McLaren un bel po' più indietro, a quasi la metà dei punti della Ferrari con 69. Mercedes, a sua volta, ha meno della metà dei punti di McLaren e ne ha 34, seguita a ruota da Aston Martin con 33. Racing Bulls 7, ASF1 4, gli altri con 0 punti purtroppo. In sostanza abbiamo visto una Ferrari molto migliorata, miglioramenti che non sono dovuti solamente alle prestazioni della vettura, ma anche quello che è la mentalità di tutta la squadra. Visto anche i grandissimi passi avanti che sono stati fatti in termini di strategia. Strategia che è stata cruciale per essere riuscita ad arrivare davanti a Norris con le Clerc. Red Bull è ritornata dove è e dove sarebbe dovuta essere anche in Australia, bene o male, però questo sta a sottolineare come le caratteristiche di una pista possono influire di molto le prestazioni delle macchine. Anche andando a vedere come si è comportata bene la McLaren di Norris. Una Mercedes sempre più in crisi che deve comunque cercare di trovare il giusto modo per ritornare in carreggiata. E anche una Aston Martin purtroppo a livello di Mercedes con uno stroll che a questo giro probabilmente ha avuto anche dei problemi di setup con la vettura. Speriamo comunque che Ricciardo riesca a ritrovare la retta via visto che in questa gara non ha potuto dimostrare quanto può valere veramente visto l'uscita al primo giro. E soprattutto io sono molto dispiaciuto per una Williams che non sta trovando una corretta gestione di tutto quello che è il budget, di tutto quelle che sono le componenti. Mettendo comunque davvero in difficoltà tutta quanta la squadra. Io vi ringrazio per aver visto questo video, ci rivediamo poi tra due settimane con il Gran Premio della Cina. Gran Premio che ospiterà per la prima volta quest'anno una sprint race e Gran Premio che non vediamo da un bel po' di anni. È un ritorno ottimo di una pista veramente molto molto bella. Vi auguro una buona settimana, ciao a tutti quanti.